ciao a tutti sono sissi bentornati sul mio canale per il repilogo recensione della 7x7 il finale di stagione del trono di spade quante cose belle che sono successe in questa puntata è morto dito corto jamie ne ha avuto abbastanza di serse l'ha abbandonata abbiamo scoperto il vero nome di john snow e poi che altro successo è morto dito corto finalmente ci abbiamo messo sette stagioni ma ce l'abbiamo fatta va bene dai allora incominciamo subito andiamo con ordine è stata una puntata lunghissima un'ora e venti di puntata spero di ricordarmi tutto come se no come al solito se non mi ricordo di dirvi qualcosa ne parliamo nei commenti qua sotto siamo arrivati alla fine anche di questa stagione la prossima sarà probabilmente l'anno prossimo però non vi disperate perché il lo faccio subito l'annuncio prima che poi alla fine mi abbandonate non lo sentite non vi disperate perché io la settimana prossima vado in vacanza però quando ritorno poi il 10 settembre ricomincia fear the walking dead quindi il format sarà lo stesso farò la live reaction delle l'episodio quindi guardere guarderemo insieme l'episodio con i commenti a caldo live e poi farò come al solito la recensione perciò non mi vedrete per una settimana e meritatamente me ne andrò al mare pure io però poi ci vediamo lo stesso allora io cercherò di essere per quanto posso abbastanza breve perché non avete idea di che caldo di che afface oggi in brianza e niente allora incominciamo subito dal fatto principale no vabbè dal fatto principale al grande inverno dito corto abbiamo visto che è lì che stava macchinando di mettere contro le due sorelle sansa e daria e abbiamo scoperto che finalmente sansa non è totalmente una cerebro resa come pensavo alla fine trova sempre di il modo per tornare tra le mie grazie sansa sembrerebbe che dito corto l'abbia convinta che aria sia tornata per ucciderla e per prendere il suo posto di lady di grande inverno ma anche qua lei deve essersi resa conto che a nessuno se non a lei interessa il titolo di lady di grande inverno e lei quella che brama il titolo quindi lo sa che aria non non ha queste aspirazioni non ha mai avuto queste aspirazioni ma lei vuole combattere quindi penso che qua abbia avuto già il sentore poi si è confidata con bran che gli ha detto tutto i tutti retroscena di dito corto che praticamente è stato ha svolto un ruolo chiave nel nell'uccisione del padre sia ancora di ned star che stiamo parlando dunque si riuniscono tutti nella sala riunione di grande inverno e sansa finalmente espone a tutti il gran pezzo di merda che è dito corto e praticamente viene sgozzato da aria davanti a tutti a tutti quanti e non è la sola cosa che avviene a grande inverno molto importante questo episodio io faccio già un passo avanti perché voglio parlare poi di approdo del re più tardi quindi parlo subito di grande inverno cosa succede sam arriva grande inverno perché l'abbiamo visto che ha lasciato la cittadella che finalmente ne ha avuto anche lui fin sopra i capelli della cittadella è tornato grande inverno per per allearsi contro giusto contro l'esercito dei morti che cosa vuole fare lui non lo so però ma probabilmente avrà qualche informazione in più forse per john e si è riunito con bran ricordiamoci che lui l'ha aiutato ad attraversare la barriera e bran qua gli ha detto tutta la storia su john snow gli dice guarda io ho avuto delle visioni so chi è john snow alla fine non è un bastardo la ribellione di robert baratio pace all'anima sua ma mi stava così simpatico robert baratio era un ciccione che ruttava e scorreggiava tutto il tempo era simpatico mi stava simpatico vabbè pace all'anima sua la sua ribellione è stata tutto una farsa perché regar e lianna si sono amati e quindi john è figlio loro e in realtà si chiama egon targaryen a quanto pare perché sam gli dà l'informazione che aveva che avevamo sentito l'altra volta a cittadella che praticamente regar si è sposato in gran segreto con lianna e quindi c'era un documento che attesta che john non è un bastardo quindi non è un sand che è nato ad orn ma è effettivamente un targaryen e il suo nome è egon targaryen proprio in quel momento john stava facendo sesso con denerys incesto ma si sa il trono di spade è abbastanza una serie incestuosa e noi non ce ne frega niente ma di questo ne parleremo dopo anche di questo e quindi niente vabbè egon targaryen boh secondo me gli sta meglio jos no ma non so perché se per il fatto che l'abbiamo conosciuto così per sette stagioni per ben sette anni e sette stagioni come john secondo me gli sta meglio il nome john snow fatemi sapere voi nei commenti qua sotto questo toto nome se gli sta meglio john snow o egon e passiamo oltre passiamo oltre io all'inizio di questa puntata sinceramente non ho capito bene che cosa stava succedendo perché mi sono vista gli immacolati fuori da da un castello che io ero rimasta che verme grigio con gli immacolati erano a morire di fame a castel granito e pensavo che stessero facendo rivedere un po' cioè che si ricollegassero alla loro storia stessero facendo vedere loro poi a castel granito a morire di fame eccetera e invece no invece praticamente se ne sono andati da castel granito e sono arrivati tutti ad approdo del re quindi quando john ha portato l'estraneo a cersei da far vedere sono arrivati tutti sono arrivati quelli con la flotta cioè loro con la flotta sono arrivati arrivata da daenerys in sella al drago che abbiamo visto che ha fatto la sua entrata da sborona e sono arrivati i dotrachi e sono arrivati pure gli immacolati e quindi cioè poi dopo si è capito un pochino dopo però all'inizio veramente se avete visto la mia live reaction io sono rimasta un po' cioè non ero riuscita praticamente a riconoscere il castello perché mi sembrava di averlo sempre visto a prodo del re dalla parte del mare quindi non avevo visto mai la parte il castello dalla parte della terra anzi io pensavo che da una parte si affacciasse sul mare poi dall'altra parte si affacciasse sulla città non avevo visto quello scorcio che c'è di prato praticamente mi sembrava ancora o mi sembrava che jamie e bron fossero rintanati dai tairell oppure che fossero a castel granito non lo so non so che cosa stavo pensando comunque sono arrivati tutti ad approdo del re per fare questo incontro fatidico incontro con cersei si riuniscono tutti c'è la reunion mastino ser gregor la montagna che praticamente preclude già a un a un loro duello che succederà probabilmente adesso nella prossima stagione perché lui dice ti ricordi di me sei diventato ancora più brutto ma comunque c'è qualcuno che sta arrivando per te e quel qualcuno penso che penso proprio che sia lui dunque mi è arrivato un messaggio intanto continuano ad arrivare i messaggi mi sto distraendo niente sono lì tutti per fare sto meeting arriva cersei che io infatti nella live ho detto pensa se questa non si presenta e fa saltare in aria tutti con l'alto fuoco sarebbe già finito il trono di spade invece no invece ha deciso di presentarsi questa volta cersei ed era in ritardo deneris che poi è arrivata al a cavallo del drago io mi aspettavo che facesse tutta la sua pappina sono deneris regina dei dotrachi di questo di quell'altro madre dei draghi e tutta la spatafiata ma non ha detto niente è sceso dal drago si è seduta cersei gli ha detto mi hai fatto aspettare se in ritardo cersei è una grande dunque che cosa succede gli hanno presentato questo estraneo e lei devo dire che è rimasta abbastanza sbalordita della cosa e gli ha offerto la tregua gli ha offerto la tregua e gli ha detto guardate io faccio la tregua solamente se e john snow non rimane al nord rimane insomma leale a me se no niente tregua e qui john snow con la sua faccia da solito imbesuito la sua faccia che ha di solito gli ha detto no cara cersei ormai io mi sono inginocchiato tra virgolette perché non è vero che si è inginocchiato al cospetto della mia nuova regina deneris targaryen e quindi ha mandato a monte praticamente l'alleanza e si poi abbiamo visto il nostro uron grey joy che ha fatto le sue solite le sue solite uscite alla uron grey joy e abbiamo visto che durante il meeting se n'è andato ha chiesto a john snow ha chiesto a john snow se fossero capaci di nuotare queste strane e lui gli ha detto di no scusatemi ma mi volano i capelli in bocca lui gli ha detto di no e lui gli ha detto bene questa cosa mi ha fatto paura io me ne vado mi rintano nella mia isola quello che doveste fare anche voi saluti e baci a tutti quanti e ci vediamo quando sarà finita tutta questa storia a me la cosa infatti mi ha lasciato lì un attimo per pressa ma poi vedremo che il nostro uron ovviamente è fedele a cersei e ha cospirato con lei e quindi vediamo bene quindi cersei si ritira incazzata c'è vediamo l'incontro tra jamie e brianov tart che gli dice vaffanculo l'alleanza cerca di parlare con cersei cersei qui è una questione come vedi di vita o di morte cerca di farla ragionare e infatti vediamo jamie lo vediamo poi uscire dalla camera di cersei quando tirion dice vado io ad affrontare mia sorella e infatti jamie gli dice guarda provaci tu se non hai paura che ti ammazza questa qua e niente provaci tu perché io non ci sono riuscito a convincerla quindi va dentro tirion molto coraggioso da parte sua devo dire e qui succede un discorso un po' strano perché ovviamente cersei comincia a dargli del traditore comincia a sparare di merda che ha ucciso il buon caro tywin lannister che mi stava così simpatico pure lui mi piaceva tanto a me tywin e secondo me ha avuto una morte proprio da stronzo sul cesso però vabbè passiamo oltre e qui praticamente gli da del traditore lui gli dice che ha sempre amato i suoi bambini lei gli fa capire che è incinta e qui quando gli dice ah sei incinta poi si blocca si bloccano le riprese e lui e poi vediamo che lui torna da loro e arriva cersei gli dice sì ok facciamo la tregua manderò il mio esercito al nord con voi e poi spero che vi ricorderete una volta finita la battaglia con i morti spero che vi ricorderete che vi ho aiutato anche se non me lo aspetto di qua e di là e qui anche a me mi ha lasciato un po' perplessa perché io la conosco la mia Cersei e quando prendo una decisione quella è e infatti questo cambio di posizione mi ha lasciato perplessa poi vedremo che comunque quando Jamie è lì che sta arrangiando per vedere di muovere l'esercito Cersei lo blocca e gli dice ma cosa stai facendo sei idiota o sei idiota cioè tu non devi prendere per oro tutto quello che dico lo sai che non voglio fare l'alleanza con loro perché loro vogliono togliermi il trono io mi sono alleata con la banca di ferro e praticamente Euron sta andando a prendere questo esercito di mille mila uomini con gli elefanti a quanto pare da oriente arriveranno quindi li vedremo nella prossima stagione ci saranno anche degli elefanti in più che moriranno tra gli animali mandati alla morte nelle battaglie ci saranno anche gli elefanti nella prossima stagione quindi vabbè Euron sta andando a prendere questa compagnia dell'oro in oriente e ci riprenderemo quello che è nostro uccideremo quelli che rimangono vivi dalla battaglia dei morti eccetera e qui Jamie abbandona Cersei ce ne ha abbastanza tra i discorsi che ha fatto con Tyrion tra Brienne che gli ha detto praticamente tira fuori le palle ce ne ha abbastanza abbandona Cersei e va da solo lo vediamo partire da solo penso alla volta di Grande Inverno per congiungersi con Tyrion e con Jon e Daenerys contro questa battaglia dei morti vedremo poi Bron se sarà al fianco di Jamie o se stringerà o se sarà attirato dall'oro di Cersei insomma e niente poi abbiamo visto che è arrivata la neve ad approdo del re e niente poi passiamo c'è stato un discorso lunghissimo tra Teon e Jon Snow il che Jon Snow gli ha detto sei un Greyjoy ma sei anche un po' un Targaryen ricordati questo perché praticamente Teon gli lecca il culo a Jon e niente quindi decide di andare a riprendersi Yara sì anche lì io qua lo voglio proprio vedere perché quando al meeting Euron gli aveva detto praticamente che se non si se non si alleava con lui subito in quel momento Yara era morta perché ce l'aveva lui prigioniera niente va si scontra con il capo della sua delle sue imbarcazioni insomma e non so se lo uccide o lo riempie di botte quasi fino a morte e poi guadagna la fiducia dei suoi uomini che vabbè saranno tipo una ventina di uomini e non so come faranno voglio proprio vedere come faranno andare a riprendersi Yara felici e contenti della tregua alleanza stretta con Cersei Jon e Daenerys che si sono imbarcati verso Grande Inverno decidono di festeggiare andando a letto insieme finalmente è finita questa tensione sessuale tra i due e hanno deciso di buttarsi a capofitto nella questione e andare a letto scena che non mi ha emozionato molto devo dire la verità anche perché io continuo a dirlo cioè scene come quelle di sesso tra Khal Drogo e Daenerys non ne vedremo mai più cioè io qua ve lo dico e vero cioè Jon andava bene con Ygritte ma Jon e Daenerys non l'ho vista così tanto questa poi alchimia sessuale sì c'era c'era tensione però poi sul fatto a me non mi è piaciuta molto questa scena di sesso fatemi sapere voi qua sotto se vi ha dato certe emozioni questa scena ma a me non me ne ha date molte per la per la gioia di mai una gioia giora tutto questo interessante invece l'emozione suscitata in Tyrion che qua volevo arrivarci io quando Jon entra nella stanza di Daenerys vediamo Tyrion che li spia da lontano che ha preso il posto di di Jorah e li spia e ha una faccia un po' strana e io un po' ci ho pensato qua e ho pensato non è che ha stretto lui qualche patto con Cersei perché questa storia che Cersei dopo l'incontro con Tyrion e dopo il discorso sulla gravidanza dei bambini eccetera che ha cambiato idea così facilmente sull'alleanza a me non mi è andato cioè non mi è andato tanto giù e infatti stavo pensando che magari può essere che Tyrion ha stretto un patto con Cersei per il suo futuro per il futuro psicopatico magari gli ha detto ok quando perderai questa guerra magari contro Daenerys magari possiamo far adottare il bambino da lei che poi diventi comunque un successore al suo trono visto che lei non può avere figli abbiamo visto che ha avuto una conversazione con questa qua della storia dei figli con Jon e Jon gli ha detto ma va ma non farti ingannare dalla strega che ha ucciso tuo marito magari ti ha detto una cazzata magari puoi avere figli e infatti già quello voleva quello voleva chiavare gli ha detto vieni qua che ti ingravido io e magari Tyrion ha preso accordi diversi e per questo mi è sembrato un po' che ha fatto una faccia strana quando li ha visti entrare insieme per copulare non so se a voi ha dato la stessa impressione e non so parliamo nei commenti e comunque lo vedremo nelle prossime puntate nella prossima stagione tra un anno tra un anno scopriremo tutte queste cose che non so io la prossima stagione dovrebbe essere ancora più corta di questa e non so dove vogliono fare tutto perché ci sarà lo scontro tra i morti questi arriveranno questa compagnia dell'oro quindi ci sarà lo scontro con Cersei qua stanno facendo tutto troppo velocemente almeno altre due o tre stagioni ci volevano vabbè comunque questo è un pensiero mio proprio mentre stanno copulando Jon e Daenerys vediamo Bran che è totalmente preso da una visione e io all'inizio pensavo che stesse guardando il filmino tra di loro e invece no invece no sta guardando la barriera sta tenendo sotto controllo la barriera che è crollata in meno di 5 minuti praticamente sono arrivati i morti è arrivato Viserion zombie cavalcato da dal re della notte e in due minuti ha distrutto praticamente dalla barriera la barriera è crollata e abbiamo visto che i morti sono passati alla barriera abbiamo visto molto in difficoltà Tormund e Beric che sicuramente non saranno morti e li vedremo nella prossima stagione dunque io le mie considerazioni le ho fatte non so che si no si mi sa che la copertina del video questa volta va a Cersei va alla mia Cersei e dai non potete negare che non sia una brava attrice Cersei rispetto a tutti gli altri e niente io vi mando un bacione settimana prossima non ci vediamo perché sono in vacanza ci vediamo con la dopo con Fear the Walking Dead come ho detto all'inizio stesso format live reaction e recensione sentiamoci nei commenti mi raccomando fate il like al video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e niente ci vediamo alla prossima ciao